Fede, quest'oggi cercheremo di portare l'amore anche tra i mostri, dato che abbiamo creato una pozione davvero fantastica, ovvero la pozione dell'amore, guarda qua, e qui Fede, ci permette di creare l'amore tra i nostri mostricciatoli e di creare delle famiglie fantastiche, quindi preparati a questo esperimento oggi perché... I mostri si dovrebbero sbranare tra loro, Steph! No, faranno le famiglie con i bambinetti carini, Fede, rivoluzioneremo tutto il mondo! E ragazzi, come va? Io sono Fereniki e sono Steph, che soggio che mi resta, e siamo qui nel nostro laboratorio dei mostri, prontissimi ad affrontare nuovi esperimenti, quindi cosa vuoi fare, Steph, come prima cosa? L'obiettivo principale e assoluto di questo episodio è creare le famiglie mostro, proprio si chiamano famiglie mostro, ok? Se lo dici tu, ok! Dato che abbiamo la pozione dell'amore che ci permette, come quando dobbiamo mangiare su Minecraft ad animali, di creare le famiglie, quindi questo sarà l'esperimento assoluto di questo episodio. Però abbiamo diverse pozioni, Fede, che noi non abbiamo provato e che io sono molto curioso di provare, perché abbiamo la Clone Potion... Ok, ovviamente il nome fa già intuire quello che farà. Che cosa fa, Fede? Non saprei cosa potrebbe fare. Clona gli zombie, quindi tu adesso se la usi, clonerai lo zombie. Quindi, se noi abbiamo lui e facciamo tasto destro... Vedi, clonato uguale, identico, anche dello stesso colore, visto? Proprio clonato al 100%. Della serie, se uno ti piace tantissimo, lo cloni e ne hai due. È tutto un recito uguale. Mi piace, vedi? Questa è una pozione che mi piace. Dopodiché, l'Exploder Potion sembra un pochettino più pericolosa, quindi io adesso vado qua... Vai. ...sul clone, dato che alla fine il clone... È un clone. Perché, cioè, poverino, quello originale... Vai, uno dei due. È lui, è lui, è lui, perché vedi, non riesce a camminare bene, l'altro è più artiglino, quindi lui è il clone. Proviamo su di lui, perché non so cosa potrebbe succedere. Ok, e l'abbiamo steso. Ok. Amico? Sì, Fede, l'abbiamo totalmente steso. Sì, 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 diciamo che è un altro modo per stenderli oltre la tua arma. Perché, tipo, li devi tenere a bada, mi sembra giusto, no? Eh sì, non è male, è bella forte come pochettino, eh? È forte, è forte, è forte. Povero clone. Scusa, se abbiamo fatto un esperimento su di te, ma dovevamo scoprire che cosa fa l'Exploder Potion. Sicuramente, è stato divertente e basta, dai, diciamolo. È stato molto divertente. Moltissimo, moltissimo. L'Exploder è stato molto divertente. E se prendessimo l'Exploder Potion e andassimo nel villaggio dove è pieno di zombie e le facciamo esplodere? Sai che non lo so, non l'ho mai provato, però sì, ci può stare. Magari facciamo una mega esplosione e li spendiamo tutti, non lo so. Ok, andiamo a farlo, andiamo a farlo. Però prima facciamolo tornare a Arzillo, poverino, che mi dispiace lasciarlo qua coricato così tutto il tempo. Vai, ora stai bene. Non gli ha fatto niente, l'esplosione sta bene. Una, due, con te ne prendiamo, Fere? Quattro vanno bene? Amico mio, devo fare un esperimento, lasciami in pace, lasciami in pace. Tendilo, Stef, stendilo. Ok, così impara. Allora, vai dove c'è proprio, capito, un gruppo gigante di zombie e ne tiri una e vediamo che succede. Sono curiosissimo. Sei pronta, Fere? Sì, prontissima. Vado proprio in corsetta. È singola. È singola. Anzi, no, aspetta. No, 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 no. L'ho finita, Fere, l'ho finita, aiuta. L'ho lottato, butta lì giù. Corri. Alla vecchia maniera. Eh sì, eh sì. Mi è sembrato che però quello fosse un gruppo steso, quindi, cioè, mi sembra che abbia avuto un raggio un po' più ampio. Adesso andiamo a controllare un attimo, ok? Perché all'inizio mi è sembrato anche a me single target. Però a un certo punto ne abbiamo steso, guarda. No, sì, ne abbiamo tirato solo tre, ne abbiamo stesi tutti, questi non sono tre. Si può fare un'altra cosa interessante? Che ho scoperto io, ovviamente, perché solo io posso scoprire queste cose. No, no, funziona, vedi, si bugga un po', però funziona. Hai metto solo la testa? Sì, allora, praticamente, se tu triti uno zombie, non so come dirlo in modo gentile, ma sinceramente è quello. Ok. Ti dà un pezzo di zombie, che può essere la testa o il braccio. Ah, è casuale? Sì, braccio destro o braccio sinistro. No, con le muvie non funziona, funziona solo con gli zombie. Ok. E con i lupi mannari, quindi solo con gli zombie. Ok, allora, questo è un altro zombie, ci voglio riprovare. Non ti dà tutto il corpo, non ho capito perché. Perché ti dà davvero o la testa o un braccio, vedi? Sempre. Oh, che figo. E tu tutte queste cose le puoi vendere per farti soldi. Non ti fanno chissà quanti soldi, non ti fanno far fare troppi soldi. 10 e 10, la love potion comunque vale 50. Eh sì, quella è una cosa. Se imparassimo a riprodurre le love potion potremmo diventare ricchi. Oh, possiamo anche farlo, e vai a vedere cosa serve, scusa. Girati e guarda gli ingredienti. Allora, qua. Vediamo, love potion, quella lì sotto. Love potion, ok. Una carota. Cos'è un glascia? Allora, sono i minerali, devi andare nella caverna e questo è anche facile da recuperare. Ok, e però lo zombie, il sangue degli zombie, come lo tengo io? Sai che non lo so, però noi dovremmo avere nei laboratori, infatti lì in fondo. Lo so, ma io lo voglio ottenere a modo mio. Possiamo rendere lentili zombie fere. La voglio provare questa. Queste sono le calming, guarda. Questa? Eh, mi sai, sì, sì, provala, vai. Ok, allora. Vai, 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 vai. Proviamo, ma possiamo fare... D'altronde siamo dei licenziati, se non facciamo negli esperimenti chi li deve fare? Giustamente, giustamente. Allora, noi tiriamo fuori Mel, lui. Ok, ciao Mel. Dopodiché prendiamo una revival e una calm. Ok. Ok, quindi facciamo una e due. Tiriamo la revival, quindi lui si rialza in piedi e teoricamente è aggressivo. Certo. Tiriamo la calming e smette di attaccarci. Sì, questo è utile per quando si va in giro ad esplorare, molto utile. Non tanto per stare dentro il laboratorio, ma per andare in giro. Ma anche per averli capito un po' che vanno in giro per il laboratorio. Dipende, dipende, aspetta. Perché? L'effetto è per sempre, oppure scade. No, no, dura un po'. È un po' pericoloso. Però pur di avere un pochettino di, capito, di spirito giocoso dentro il laboratorio, siamo sempre soli. Ma qui devi fare esperimenti, non devi essere felice. Eh, ma mi annoio fare. Fare esperimenti. Tef, hanno aggiunto anche un'altra funzione che ancora non ti ho detto, però. Ok. Puoi cambiare i colori di tutto il laboratorio. Davvero? Sì, sì. Premi ESC, mi pare, ESC. Ok. Sì, vedi, hai colore 1 e colore 2. E lì, se tu vai a frugare un po', vedi, ti cambia i colori di tutto il laboratorio. Di che colore ce lo facciamo? Allora. Allora, aspetta, fammi vedere. Anche la pistola cambia colore, hai notato? Cosa? Ah, cambia tutto il resto, questo. Sì, sì, sì. Allora, ti concedo come colore secondo il rosa-viola. Scegli tu un po' che tira la tonalità. Ecco, questo va bene. Fucs era un po' troppo. Questo va bene. L'altro lo scelgo tu. L'altro lo scelgo io. Forse un blu ci starebbe bene. Blu mi è piaciuto molto. Eh, blu con rosa. Però guarda questo celestino. Questo, 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 vai. Eh, sì. Guarda che figli questi. Una via di mezzo tra me. E anche questo fa ridere. Fari, secondo me è arrivato il momento di provare la love potion. Ok, vai. Allora, devi fare attenzione perché devono stare molto vicini, altrimenti non funziona. Devono stare proprio vicini come questi due. Vai. L'ho mancato. No, 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 aspetta, devono stare vicini. L'ho mancato, Fere. Perché io queste cose le ho provate senza di te. E se loro sono distanti tra di loro, non funziona. Ok. Rimangono fuoricini ma non succede niente. Ok, allora. Uno. Due. Eccoli, eccoli. Oh! Devono stare molto vicini. Ma è troppo carino questa cosa. E poi mi sembra già più grande dell'altro che è nato, quindi. Sì, è vero. Scusa, ma devi vedere quanti anni ha. L'altro ne aveva 17, è questo? È vero, è vero, è vero. È vero, è vero. Ma sono curioso anche io. Allora, l'altro è... Qual è? Questo? Elga. Allora, zero. Zero anni, perché è appena nato. Anche se risulta più grande di... Eh, beh, è più alto. Cosa ci vuoi fare? Però conta zero anni perché in effetti l'abbiamo fatto nascere noi. Non l'abbiamo trovato in giro. Sì, sì. Interessante, interessante sta cosa. È interessante per un motivo. Allora, se vi ricordate, il nostro obiettivo massimo è quello di studiare per trovare, diciamo, una cura e così via. Esatto, la cura per questi giorni. Se noi sfruttiamo la love potion e la cloning potion per formare tantissimi zombie, invece che perdere tempo ad andare a catturarne cinque alla volta, possiamo creare una vera e propria colonia di zombie, fare un sacco di esperimenti e scoprire qualche informazione utile. Esatto. Vero? Esatto. Lo facciamo? Sì, sì. Allora, noi andiamo su research. Ok. Ah, guarda, ci dice anche le pozioni che abbiamo usato. Ci dice anche quante pozioni abbiamo usato. Interessante. Allora, a noi serve 10 di research time, quindi dobbiamo fare 10 ricerche con gli zombie. Allora, che ne dici magari di comprare anche qualche altro spazio? Mi sa che sono gratis, eh, non mi ricordo. Quali spazi? Questi spazi per fare gli esperimenti, come le chiamiamo? Capsule, come le vogliamo chiamare. Non credo che sono gratis, fare. Sì che sono gratis, vai a vedere. Non credo, proprio. Vedi tipo, eh, vai qui. Building. E le vedi? Le research pod sono gratis. Ma tu c'è tre? Eh sì. Ma, tempo fa costavano. Abbiamo rivoluzionato il laboratorio. Allora, due alberilli qui super carini che stanno crescendo. Qua ne abbiamo messo cinque super fantastiche tutte insieme. E dopodiché abbiamo aumentato i recinti. I recinti. I recinti. A quattro. E secondo me è molto meglio. A questo punto noi possiamo fare diversi esperimenti in diversi recinti. Esatto, esatto, esatto. Punterei a fare un recinto tutto di clonazioni. Sì. Guarda, guarda, guarda. Adesso questa cosa è molto interessante. Noi andiamo. Allora, abbiamo uno zombie? Sì. Tu, tu, tu sei un fantastico zombie. Lo portiamo qua. Tu non hai ancora capito cosa voglio fare, Ferre. Perché la mia mente sta già viaggiando tantissimo. Sì, sicuramente, Stefano. Allora, prendiamo questo. Lo rianimiamo. Ok. Perfetto. Ed è molto felice. No, è molto arrabbiato invece. Dopodiché. Ne fai un'infinità. Esatto. Facciamo un'infinità dello stesso. Ok. Ok. Sì, almeno non c'è la fatica di andarli a catturare. Anche se puoi esplorare è utile perché i minerali comunque li devi... Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Oh, ma... Stef, basta! Tutti uguali, po'. Fammi vedere se hanno almeno diversi nomi. No, sono proprio lo stesso in tutto e per tutto. In tutto e per tutto. Fantastico. Perfetto che le talpeggio sono sempre gli stessi. Bello, bello. Ok. E voi verrete utilizzati per la ricerca. Cioè, perché, sapete, valete un po' meno degli altri. È giusto così. E vabbè, qualcuno deve essere... Deve andare nella ricerca. Non è che è colpa nostra, ma bisogna portare avanti questi esperimenti. Esatto. Cioè, è il nostro lavoro. Dobbiamo farlo. Dopodiché, io qua creerei una famiglia carina. Li evoco tutti perché voglio i due di colori più fighi. Ok. E sono lui, senza dubbio. È quello rosa. Sono i più belli. Allora, uno qua. È quello rosa, mi hai detto? Sì, sì. Sono i più belli. Questo? Sì. Vai. Ok. Questo è fighissimo di colore. Vai. Ok, li appoggiamo qua entrambi. Ci tocca rianimarli. Però iniziamo a prenderci anche le pozioni dell'amore. Ok, aspetta a fare per un attimo. Li rianimiamo. Aia! Questi pestano, eh. Fa' attenzione. È molto antipatico. Fa' attenzione. Avvicinatevi. Allora, devono stare vicini anche loro. Vicini. Ok. Ancora di più, per favore. Beh, d'altronde se loro attaccano potrei usare me stesso come esca. Eh, io ci ho pensato, però no, non mi sembra che stiano più interessati a te. Ok. Vai, vai, vai. È il momento giusto. Uno. Ma ne è nato uno bruttissimo però, Steph. Scusa, sono molto delusa. Beh. Cioè, io ne ho messo uno bordone rosa. Mi aspettavo tipo un colore strafigo. Mi nasci verde, verde. È evidente. È vedi. Abbiamo fatto due scoperte. Due scoperte in un solo secondo, Fede. La prima è che possiamo copiare anche questa specie. Aspetta, stavo per esultare, ma proprio la bruttezza sua mi ha interrotto la mia esultanza. Il secondo esperimento, però, ha dimostrato che non solo li puoi far nascere, ma che nasce di un colore casuale, perché non ha nulla a che fare né col padre né con la madre. Quindi nasce un colore totalmente casuale e noi però possiamo fare una cosa. Dato che non ci piace il colore con cui è uscito, noi possiamo provare a colorarlo, finché non è carino anche lui. Molto triste sta cosa. Allora... Vedi, tipo questo è il colore giusto. Beh, è così. È un po' il rosso, un po' il rosa e ha preso i colori dei due. Questo è un colore giusto. Mi sembra ecco. Io li lascerai così. Sì, sì, sì. Sono molto soddisfatto. Quindi ci siamo fatti la cella di tutti gli zombie croni, la cella familiola di una specie che non so bene cosa sia, tutti gli zombetti che si sono accoppiati tra di loro, gli alberelli qua, guarda che giganti frutti che stanno diventando e gli ananas invece sono ancora piccolini, e infine 5 research pod per fare un sacco di ricerche tutte insieme. Ragazzi, lasciate un bel like. Questa è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerarli da iscrivervi per non perdervi gli altri video. Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Grazie a tutti.